Si chiama nave Trieste e sarà la nuova ammiraglia della Marina Militare Italiana al posto della Cavour. Varata a maggio nello stabilimento Fincantieri di Castellamare di Stabia, è arrivata questa mattina nel porto della Spezia, dove vedrà ultimato l'allestimento al Mugiano, con segna prevista 2022. L'attracco allo stabilimento Fincantieri, con sei mesi di anticipo sul previsto, e la conseguente protesta del sindacato per la riduzione delle ore di lavoro nello stabilimento stabiese, che si tradurrebbe in circa 300 esuberi per l'indotto. Al Mugiano saranno ultimati l'allestimento tecnico e i sistemi d'arma, e eseguite le prove d'accettazione a mare per arrivare alla consegna nel giugno 2022. Per due anni e mezzo, dunque, la nave avrà base alla Spezia, in buona parte con equipaggio a bordo quasi a pieno organico. Spezzino anche il munizionamento, che verrà prodotto nello stabilimento Leonardo, già Otto Melar, che fornirà inoltre l'intero sistema di combattimento della nuova unità. Da parte di MBDA è prevista la predisposizione per l'eventual installazione di sistemi missilistici di difesa aerea. La Trieste è una nave da guerra multiruolo, unità d'assalto anfibio polivalente, dotata di ponte di volo continuo con una lunghezza di 230 metri per 36 di larghezza, un'area di 7.400 metri quadrati e nove punti di decollo per elicotteri pesanti o per quattro caccia F-35B. Il ponte può ospitare in piena operatività 14-20 aree mobili. Sull'unità potranno operare gli elicotteri Leonardo AV-101 e NH-90 della Marina. Sul fronte anfibio le capacità sono molto avanzate come principale arma dell'unità. Il secondo ponte è sotto l'hangar con un'area di 2.300 metri quadrati, ha un bacino allagabile 55 per 15 metri, dimensionato per l'ingresso di mezzi meccanici da sbarco oppure 300 soldati. Avrà un ospedale con sale operatorie, laboratori di radiologie e analisi, gabinetto dentistico e zona adegenza per 28 ricoverati gravi per un totale di 700 metri quadrati. Potrà condurre operazioni anfibie e a lungo raggio in teatro operativo, ma potrà anche essere impiegata per l'evacuazione di personale non combattente da territori esteri, operazioni di assistenza umanitaria e concorso in caso di calamità.